Monumenti dimenticati, simboli che ricordano il sacrificio di migliaia di persone e che una comunità dovrebbe mantenere nel migliore dei modi. E invece il degrado la fa da padrone. Vi abbiamo raccontato nelle scorse ore della vicenda delle colonne mozze sulla Cadorna e abbiamo posto delle domande in merito al monumento ai ragazzi del 99 di Bassano. Su quest'ultimo punto, dopo i servizi e gli appelli lanciati da Rete Veneta e sostenuti da molti bassanesi, è arrivata la svolta. A settembre inizieranno i lavori di sistemazione grazie soprattutto alla buona volontà dei fanti e dei giovani alpini. Abbiamo un gruppo di volontari, prevalentemente associazioni, e sottolineo soprattutto i fanti e gli alpini, i giovani degli alpini in modo particolare, con cui abbiamo fatto varie riunioni e anche sopra luoghi tecnici, per cui abbiamo una lista delle operazioni da fare e anche dei costi da affrontare per riperimento di materiali e quant'altro. Ho sentito anche stamattina alcuni responsabili, a breve quindi una delibera di giunta che dia un cappello amministrativo e poi questi gruppi di volontari cominceranno a partire da settembre a lavorare per rimettere a nuovo quel monumento che soprattutto in questi anni di centenario assume un'importanza molto molto rilevante. I costi verranno completamente coperti, poi c'è il volontariato che farà la parte più grossa. Stiamo parlando innanzitutto di materiali per qualche migliaio di euro, se poi dovessero invece emergere costi superiori l'amministrazione li affronterà, però ripeto sono costi di pochi migliaia di euro di materiali perché abbiamo dei volontari che metteranno molte molte ore a disposizione gratuitamente per la loro comunità. Finalmente c'è la data per l'inizio del restauro, ma le parole non ci bastano, vogliamo di più, monitoreremo che i lavori partano regolarmente. E allora, solito nodo al fazzoletto, a settembre torniamo a controllare. Nell'anno del centenario della Grande Guerra, questo sarà un altro importante risultato centrato.